eccoci qui per l'amichevole tra qatar e australia subito l'australia subito al vantaggio l'australia 1 a 0 australia attenzione ora l'australia però ancora l'australia via rombante dell'australia attenzione o i comuni di insomma come cazzo si chiama 2 a 0 2 a 0 incredibile australia attenzione però la qatar attenzione sbaglio incredibile aziz aziz che gol che gol 1 2 qatar di mezzo allo svantaggio il qatar incredibile intanto sempre pirouette alla opa opa martins ancora qatar da solo davanti al portiere al mezzo 2 a 2 incredibile qatar come mondiali del 2022 tanto allenatore che sarei io attenzione però ancora il qatar in avanti da solo davanti al portiere 3 a 2 incredibile questa partita ecco parti esatto ancora ancora pirouette ancora come cazzo si chiama capriole ancora australia però attenzione il moviola sto calcio d'angolo 3 a 3 ma insomma per tirere qui e potrà fa molto le meglio col del pareggio incredibile 3 a 3 partita ruboanti ancora l'australia però o dio e australia in vantaggio incredibile sta partita 3 a 2 qatar 4 a 3 australia roba che manco italia germania del 70 ancora australia ormai in bambola difesa del qatar e 5 a 3 mamma mia per chi diceva ai materi vinchi tutte ecco per l'appunto minco proprio un cazzo 5 a 3 però diciamo che col qatar gesta grande anche perché una squadra abbastanza mediocre e quindi appuntamento alla prossima partita la ciocca lunga